Sono iniziate stamattina le ricerche di Sandro Ottaviani nell'ambito delle indagini relativi all'omicidio dell'imprenditore matesino scomparso da Dragoni dall'area industriale il 23 aprile del 2008 dove pare avesse un appuntamento. Da quel momento di lui si sono perse le tracce. La procura di Santa Maria Capovetere ha delegato la compagnia dei carabinieri di Piedimonte Matese per la ricerca dei resti della salma. L'attività è stata svolta con l'ausilio di unità cinofila dei carabinieri di Bologna specializzata per la ricerca di resti cadaverici ai cani dal fiuto straordinario. Infatti è sufficiente anche solo una molecola di odore, una traccia modestissima per individuare le persone scomparse o i resti delle salme anche a distanza di anni. Per ora nessuna novità è emersa. Domani continueranno. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it